TeleAbdul Ciao amici, bentornati. Nella scorsa puntata di TeleAbdul abbiamo visto... Scrive Gioi dalla Sicilia Ciao Abdul e regia, ma oggi non dovevate fare la puntata sugli alberi? Cazzo è vero! Se non facciamo i cazzoli siamo noi! Ai posti di combattimento, motore, cacchio, cambio scena, azione! Non guardare giù, non guardare giù Sempre più alto Non guardare giù Abdullywood E poi siete stati tantissimi per il finale di stagione della webserie Abdullywood Tu sei felice, capisci? Tu devi vedere quello che vedo io! Liberati, tira fuori tua vera natura e tu sarai bellissimo, capisci? Merda È verissimo! Tant'è che siamo lieti di annunciarvi che è stata confermata la seconda e strabiliante stagione Le date del poster ufficiale ve li mostreremo alla fine di questo video Ma ora torniamo dal nostro Abdul Maledetto! Maledetto! Due settimane ho fricciato su questa roba qua! C'ho tutto freddo! Valle camminate adesso, arrivo fino alla giù! Sì, dai! Eh, uno benotto! Benvenuti! Devo pure andare a parlare! Muoviti! E ho tre limiti questo! Andiamo su Discovery Channel! Maledizione! Amici benvenuti alla nuova puntata del tele Abdul In inaugurazione per l'ultima, per il finale della stagione Ahahahah! The Abdul! Siamo venuti sull'alberi apposta per voi Manco nel pianeta delle scimmie E ci è un quadro in basso che forse non si vede che a me sto cagando sotto Morco Giuda è alto! È alto! Ma tanto eh! Ma tanto tanto tanto! Amici! A tutti quanti voi! Adesso facciamo la puntata qua sugli alberi con le scimmie! Sigla! Aaaaaah! Il prossimo percorso A Sralom ci sta C'è Giulia e le ragazze della regia che... Oh! La devi fare della corsa! Teremoto! 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 Oh! A me non me lo fai che me fai la paura! Ahahahah! Piano piano! Vieni! Te lo do io piano piano! Vieni! Vieni! Tocca a me? Oh! Porco Giuda! Oh! 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 Era divertente quando lo facciamo io! Io saluto Ospillima e Espinosa ovvero Carti Coschieri e... che dice? Che mi dice? Mi raccomando! Siate sempre voi stessi! Costi qualche cosa! No! Mi sei agganciato questo! Dobbiamo andare la? Ma com'è? È sempre più piccolo? Bambino ti faccio la fiscia prima! Ahahahah! Siamo arrivati! Questa non era facile! Qua ci si muove tutto! Adesso? Come puoi passare qui? Eh? Ahahahah! Devi andarci convinta! Si! Faccio vita! Ahahah! Se vai con tutto a te stessa eh! Vai dentro il tunnel! Ma dove c'è? Che puoi? Si! Ti attacchi! Ahahahah! Faccio gattoni! Faccio gattoni! Faccio gattoni! Faccio gattoni! Faccio gattoni! E' tutto il treciato! E' tutto il treciato! Oh! 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 Legia! Non mi spingi questo il matto! Mi fai fare il cascato! Morco giuda! Già dovevo fare le riprese! Vi l'ha puntata! Tutto quattro camminando sugli alberi! Come con le signe! Non so macco come ieri! La ripresa! Te me la fai a me! Perché te sei tutto quattro imbragato! Non è giusto! Ma chi se ne frega! Ha morto un abdu se ne fa un altro! Non è vero! Ha morto un abdu! Non se ne va un altro! Ah! E' sempre più alto! E' sempre più alto! Oh! Piano piano! Uno passetto! Uno passetto! Vedi? Uno passetto! Che vuol dire pesola? No! Non mi pesolo io! Ah! Sei rimasto appeso bambino? Ah! Ah! Guarda lui! Non si muove più! Non va bene! Abbiamo un prosciutto appeso! Ma dov'è la regia? Guarda lui! Lo stai il piazzone eh! Ah! Questo! Ah! Non ce ne devi dare troppo covinta! Ma stavamo messo alle palle e chi ce l'ha messo? Fagnetti io sono coraggioso! Ah! Aiuto! Aiuto! Se separa le gambe! Vengo pure io! Ah! Amici! Amici! Stiamo passando al livello 2! E' sempre più alto! Guarda! Questo è il percorso! Abbiamo fatto tutto questo per voi! Perché seguite Abdullevood! Aveva piastato! E chissà cosa sembrerà la prossima settimana! Un nuovo video di Tera Blu! Non vi lasceremo mai eh! Gliela fai? Stavolta è veramente alto! E' proprio la paura! E' serio! Mi sto raggiungendo! Vedi guarda! Non è facile per niente! Tutto questo solo per voi telespettatori di Tera Abdul e di Abdullevood! Continuate a... Continuate a iscrivervi! Iscrivervi! Continuate a iscrivervi! E dite alle vostre amici! E dite alle vostre amici che insieme vedremo tante altre cose! E per l'anno prossimo noi ci vedremo anche... Dal vivo! Insieme dal vivo! Ha ha! Si sopra vivo! Ok! La regia? Oh ma la regia dov'è finita? Vengo con te? No! Devi gacciato... Gaccetto ve lo ricorda io questo qua? Poi lo metti qua sopra e io vi insegno! A lei non gli piace! Guardate l'espressione! Oh ma la regia! Stai a piangolo! Perché gli si muove tutto! Guarda! Focalizza! Voglio vedere Giulia fa questo qua sopra! Invece a me mi è venuta a mettere un'idea! E poi la faccio! Ha! Ce l'hai quasi fatta! Se non sopravvivo mi raccomando segnate il canale Telebdur a tutti quattro! Per le mie memorie! Oh! Fate un video ricordo eh! Oh! 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 Non vorrei di niente ma mi sa che abbiamo preso il percorso di quello difficile! C'è l'istruttrice che ci sta lasciando! Dai te la mossa! Alla la sotto vedi? E questo è il biaccoto! Ma questo è difficile per davvero! Questo è proprio difficile per davvero! Ci servono le energie? Esatto! Ci stiamo facendo il culo solo per voi! Questa è la prova del coraggio! A me sta piant' pure fame a me! Siamo qua! Non ci stanno neanche le banane! Guarda! Ce la puoi fare! Si! E voi fatelo un cascato! Vi fate male! Giusto? Buono! Amici! Amici! Non so se riuscite a vederlo ma il palo dal detto si muove tutto! Si muove! Amici! Siamo quasi arrivati alla finale! Guarda! Vi saluto! Io ringrazio tutto il casta di Abdullywood siete stati meravigliosi! Grazie, grazie mille! 3, 2, 1, GO! grazie per seguire abdullywood vi vogliamo bene vado a morire ciao amici grazie mille siamo arrivati al finale della puntata e che cosa vi devo dire ci vediamo settimana prossima su tele abdull grazie mille per aver seguito abdullywood rivedetevi le puntate qui sul canale di tele abdull e che altro dirvi ciao amici e I love abdullywood aiuto aiuto ma io mi chiedo perché tutti cascano bene tranne io che sei sfigato devo fare un video sulla sfiga ancora un altro amici io non lo sapeva segniamocelo tutti sull'agenda il 6 aprile 2017 parte la seconda stagione della mamma di tutte le webserie Abdullywood stagione 2 la vendetta oh porco giuda non vedo l'ora capisce?